Benvenuti in questo nuovo video! Come vedete Aaron sta piantando! Daniel è seduto sul tavolo, la casa è un disastro, ecco, vedete? Questa è l'opera di Aaron e si sta rifiutando di sistemare casa. E papà sta pensando di prendere un bel cestino e far finire tutto nella spazzatura. Allora, facciamo una gara. No, facciamo come piace ad Aaron, li chiamiamo Challenge. Se in cinque minuti Aaron non avrà sistemato tutto, finisce tutto nella spazzatura. Facciamo così? E Daniel? Facciamo questo nuovo video? No! Come dice Dani? Nuovo video! E tengo cacca! Dai, il challenge va avanti! Il tempo corre! Anche Aaron corre! Cerca di mettere più robe dentro, ma ne mette più robe dentro! Io, io, io! E Daniel dice, tocca a lui, tocca a lui! Ma in realtà dobbiamo tenere d'occhio d'Aaron! Dani, no, 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 dobbiamo filmare Aaron! Aaron ha cinque minuti di tempo per sistemare tutto! E poi finisce tutto nella spazzatura! Sì, 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 sì! E arriva Daniel, e Daniel, e Daniel, e Daniel! Cinque minuti, corrono, corrono! E se Aaron finirà nella spazzatura, tutto finirà! Non vuoi questo cosa? Ehi! Aaron, corre, corre, corre! Il tempo passa! Tic tac! Tic tac, tic tac, tic tac! Il tempo passa! Tic tac, tic tac, tic tac! Il tempo passa! Vogliamo Wawa? Sì! Dobbiamo aspettare che Aaron finisca! Sì! Dobbiamo sapere se finirà nella spazzatura, o finirà il tutto nell'aria giù! Vabbè! Tanto me ne rimane uno! E questo è Wawa! Ti assicuri? Abbiamo finito tutto? Sì! Bene, Aaron si è salvato! Diciamo ciao ciao a tutti, e alla prossima! Ciao! No, 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 no! Ah, abbiamo ancora qualcosa da aggiungere? Sì! Eh, quasi! Facciamo vedere la scatola dei Star Wars! Ah, sì! Oggi abbiamo preso, Alessia Lunga, l'album per fare la nuova collezione dei Rollins! Dai, adesso ve lo facciamo vedere! Ecco! Ecco qua! Visto? Vi leggo i nomi però! L'accoglittore per la collezione dei Rollins! Però adesso abbiamo appena cominciato! Sì! Ce ne sono solo un paio! Quanti sono? Uno, due, tre, quattro! No, allora! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Abbiamo undici! Eh, ma ce ne sono ancora! Appena cominciata la collezione! Quando sarà pronta poi faremo magari un altro video! Adesso salutiamo i nostri amichetti! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao! Alla prossima! Ciao!